Anche Davide Bettella, soprattutto Davide Bettella, aspetta il suo momento. Sì, certo, io lavoro quotidianamente giorno dopo giorno, impegnandomi sempre al meglio e poi quando ci sarà l'occasione il mister mi dirà di essere pronto, io mi farò trovare pronto. Sei giovane, sei un 2000, vieni da una scuola che ha fatto la storia nel calcio italiano, l'Atalanta. Sei anche capitano della Nazionale del 19, anzi tra l'altro complimenti perché avete battuto i parietà della Francia a Siena. Tu hai giocato un'ottima partita, tutti quanti parlano benissimo di te, anche i tuoi compagni di squadra e quindi c'è un po', se vogliamo, di frustrazione il fatto che ancora non riesci ad esordire. No, io come ho detto prima non ho fretta, io sto imparando e apprendendo da loro, dai miei compagni e dallo staff, dal mister e appunto quando ci sarà l'occasione io mi farò trovare pronto. Sei contento di questa esperienza, Pescara ti piace, il gruppo è sano, compatto, coeso? Sì, io sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo, compagni, staff, ambiente, città e proprio secondo me per un giovane anche il fatto che il Pescara ha punti molto sui giovani, è un ambiente, è una piazza molto importante e quindi non ci ho pensato due volte a dire di sì al Pescara. Adesso un altro campo caldo, anche in questo caso per Antonio Masa, perché stiamo parlando dell'uscita di Crotone, che partita sarà secondo Davide Bettella? Secondo me tutte le partite sono difficili e ogni partita è da sé, quindi dipende da noi come entriamo in campo e come l'approcciamo e quindi dipenderà tutto da noi. Sarà difficile ovviamente ma noi ce la metteremo tutto. Ho visto giovedì la partita che hai fatto, hai messo come si dice qui in gergo a pane e acqua tutti gli attaccanti che incrociavi nella tua zona. No, io cerco sempre di dare il massimo, di impegnarmi sempre e ovviamente amo la sfida tra attaccanti e difensore quindi è sempre bello confrontarsi con attaccanti, poi soprattutto di questo valore, quindi mi diverto e continuo a divertirmi. In bocca al lupo Davide. Grazie.